Gli esperti reali hanno affermato che il principe Ferri e Meghan Markle, sono sotto pressione dopo aver subito una serie di fallimenti negli ultimi mesi. Il principe Ferri è passato da una risorsa reale a una passività poiché i marchi hanno iniziato a mettere in discussione il valore del marchio Sussex. L'esperto reale Richard Eden ha affermato che Ferri è passato dall'essere una grande risorsa e in realtà, sai potenzialmente un po' di responsabilità per i marchi. I commenti dell'esperto arrivano dopo che il duca e la duchessa del Sussex, sono apparsi in un nuovo video in cui la coppia ha parlato con una serie di giovani leader come parte della loro nuova iniziativa per migliorare il mondo digitale. Nel video, pubblicato giovedì, la coppia telefona ad alcuni giovani leader, tutti estasiati al pensiero di parlare con gli ex reali. Parlando al Palace Confidential di questa settimana, il conduttore Joe Elvin, è stato raggiunto da MR Eden e dal redattore collaboratore di Town Country, Victoria Murphy. Discutendo dell'ultimo video, il signor Eden lo ha definito interessante in quanto si trattava di mostrare quanto fossero meravigliosi Ferri e Megan. Ha aggiunto, è stato un po' imbarazzante. Il video sembrava solo dire siamo qui, siamo fantastici, e tutti ci adorano. Le persone nel mondo delle pubbliche relazioni hanno affermato che Ferri sta diventando un parafulmine per le pubbliche relazioni negative. Questi commenti arrivano dopo che Ferri è stato trascurato dal rilancio di Travalist. Il progetto indipendente senza scopo di lucro, lanciato dal Duca di Sussex nel 2019, ha annunciato di essere entrato in un'era incredibilmente eccitante. Anche se non ha menzionato Ferri. Parlando di questo, gli esperti di pubbliche relazioni, hanno ora affermato che Ferri è diventato una figura polarizzante, e che le aziende ripenserebbero alla loro associazione con lui, in particolare dopo la sua serie di affermazioni, dannose nel suo libro di memoria e rivelatore.